Tra le scuole ospiti del padiglione della regione Puglia, presente dal 20 al 22 novembre al Giobbo Oriente di Verona, spicca l'alberghiero Bottazzi di Casarano, che ha saputo valorizzare due punti di forza del ricco patrimonio della tradizione salentina, le zeppole di San Giuseppe e la pizzica. Questa una rapida sintesi delle sue performance. Dopo la bella pizzica in Taranta adesso facciamo passeggiare per le zeppole di San Giuseppe. Preparate per costituzione alberghiero Bottazzi di Incento, sede di Casarano. Ova di gallina, zucchero, zucchero semolato e per la crema al cioccolato abbiamo aggiunto del cacao. Le zeppole si possono utilizzare, sia con la marema o sia con un ciuffetto di crema al cioccolato. Avevo chiesto come mai c'era la calda, pensavo una cosa per fuggere meglio. Dipende dalla località del saluto, se siamo perso oltre abbiamo la spisciolina. Sono buonissima. L'acqua della fontana è mara amara, caci non era amara, amore me o me la bivia. Sfittà,ierro, stai,Stai, guardate per l'ai ora. Il nostro lavoro di San Giuseppe. Sfittà, ben l'unico è un bambino. 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 Grazie a tutti.